La stessa storia eh? Certo. Ti muovi di un millimetro secondo te non ti sposti di un millimetro. Hai visto come hai sparato te? Sì. Eri quasi arrappicato all'albero. Sì. Cazzo preterno. Oio sto sparando un chilone per un certo. Perché un millimetro? Un millimetro fuori di un metro. Quando cazzo mi ha chiuso. Nella piastra così 50 centimetri eh? Tu ero. Non è una piastra madonna. Ha le ciuffie? Sì. Non l'ho visto. C'è lo spostamento d'aria che mi... Scendo! Ho fatto il 300 eh? Ho fatto il tiro col 300. Mi metto! Mi metto! Presa! Perfetta al centro. Si può la base lì che fecca? Ok ho regolato la mia ottima. Adesso non so se dove è tra il centro più avanti o più indietro. Che io la posso te? 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 42 42 44 44 45 45 45 45 45 45 45 46 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 47 48 46 47